Com'è stato? Un po' malandare, a cento di Roma, di fronte a qui di Roma. Molti turisti passano attraversa questo giardino, quindi imporarlo è una cosa davvero molto importante. Dove andiamo sembra che tutti ci ammirano proprio per questo, proprio perché portiamo dei giardini splendidi come erano all'inizio, per i bambini, per i nostri figli e per tutti. Già è bello curare la natura, un po' pensare a questo, per questo diciamo i bambini, ma le persone che passeggiano una cosa ancora più importante. E chi vive a Roma, che è la capitale dell'inverno europea, comunque... Sarebbe più splendido farlo sempre, uscirne sempre, proprio in questo progetto che ci crediamo è valido per noi e aiuta molto a noi. E' un riscatto proprio nostro che... Bisogna farlo, se non farlo, migliorarlo. Sì, assolutamente. Passi sempre. La proposta è veramente sostenuta, perché è un gran successo e comunque è molto utile. È molto utile ed è anche un bel successo. Trova rafforzato e sostenuto. Esattamente sì. Ho sviluppato il più possibile. Loro chiedono sempre occasioni, sempre più frequenti, più importanti. E si possono trovare. Questa è la base, diciamo, per programmare intanto il futuro, no? Perché è importante anche questo. E' importante. Sì. Il mondo esterno. Questo è un beneficio immediato nella produzione del futuro. Sì. Sì, sì. Bene. Complimenti e auguro. Grazie. Grazie. Comunque noi siamo una rappresentanza, il gruppo è molto più grosso. Siamo quasi da 5 anni. Grazie. Grazie anche al corpo di polizia che tutti i giorni si sostiene che non è che è facile. Cambiamo il sito comunque non proprio tutti imbalandati. e a volte la sicurezza è il fattore che arriviamo. Il progetto è davvero tutto. E bisogna ringraziare anche la magistratura di sorveglianza che è da loro il permesso di accedere a questo. e poi anche la sensibilità di organi pubblici, in questo caso il Comune di Roma. Perché, insomma, è stato in un certo senso il progetto iniziale, insomma, il progetto pilota, appunto da formazione. E quindi, grazie a questi partner. E' una realtà in sé ed è anche un messaggio, una sollecitazione a moltiplicare questi messaggi. Sì, esatto. E' un messaggio di organi, se capiscono quanto sia importante. E comunque sono un interlocutore. Esattamente, sì. Senza partner pubblici non riusciamo a fare tutto ciò. Assolutamente. Perci portato in questo posto, forse più bello del mondo, credo. E' giusto. Perché rendere quel giardino pertanto bello è... Grazie. Grazie. Il Roseto, in particolare il Roseto. È una persona di fronte, invece, quasi abbandonata. E di mettere buona protezione è un gran merito. Lo faremo. Lo faremo. Lo auguro a tutti gli altri. Di nuovo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.